I 142 libri della monumentale Storia di Roma dal titolo Aburbe Condita Libri, opera dello storico Tito Livio, costituiscono un'epopea del popolo romano, paragonabile per dimensioni e rilevanza ideologica a quella realizzata da Virgilio con l'Eneide quasi contemporaneamente. Partiamo dalle dimensioni e dal contenuto. L'opera, alla cui composizione Livio, originario di Patavium, dove era nato nel 59 a.C., si dedicò interamente per 44 anni, dal 27 a.C. fino al 17 d.C., l'anno della sua morte, abbraccia ben otto secoli di storia, dalla fondazione della città all'età contemporanea fino al 9 a.C., anno della morte di Druso, figlio di Livia, moglie di Augusto. Si ritiene comunemente che Livio intendesse pubblicare in tutto 150 libri, estendendo la narrazione fino alla morte del Princeps. Dei 142 libri effettivamente composti dallo storico ne rimangono oggi solo 35, all'incirca un quarto dell'opera. Ed esattamente i primi dieci che raccontano la fondazione di Roma, l'epoca dei re e la fase più antica della storia repubblicana fino alle guerre sannitiche, e i libri dal XXI al 45esimo che abbracciano un periodo decisivo della storia romana, dall'inizio della Seconda Guerra Punica nel 218 a.C. fino al 167 a.C., anno della vittoria di Pidna nella Terza Guerra Macedonica. Le cause di una perdita così grave vanno ricercate in primo luogo nell'ampiezza dell'opera, difficilmente consultabile proprio per la sua mole, essa fu ben presto ridotta e riassunta prima in compendi o epitomi, poi a partire dal IV secolo d.C., libro per libro, nelle cosiddette perioche, in greco sommari. È grazie a questi che conosciamo il contenuto dei libri non conservati. Per raccontare la grande ascesa di Roma da modesto villaggio sul Palatino a Impero Mediterraneo, Livio adotta il metodo di racconto tradizionale dell'astrografia romana, vale a dire quello analistico, in cui gli eventi, secondo la tradizione degli annales maximi compilati dai pontefici, erano raccontati anno per anno. È una scelta in controtendenza rispetto alla memorialistica di Cesare e alle monografie storiche di Sallustio, ma il recupero di una modalità più arcaica di narrazione storica è in sintonia con il generale ritorno alle origini che rappresenta il focus dell'ideologia augustea.